Uomini e donne, anticipazione 3 maggio, Roberta Neguai Nicole, Gianni la appoggia. L'appuntamento con uomini e donne è confermato nella giornata di mercoledì 3 maggio. Quando alle 14.45 andrà in onda una nuova puntata tratta dalla registrazione avvenuta sabato pomeriggio. I protagonisti del trono classico e over saranno al centro di questo nuovo appuntamento con il programma dei sentimenti di Maria De Filippi. Dove a tenere banco sarà la discussione tra Tina ed Elio, ma anche le nuove accuse che Roberta muoverà nei confronti della sua rivale Nicole. Le anticipazioni su Uomini e donne del 3 maggio 2023 rivelano che Tina ed Elio si ritroveranno ancora una volta ai ferri corti. In studio proseguirà la lite che è già iniziata nel corso della puntata odierna trasmessa su Canale 5.